Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovissimo video di Gembe. Siamo qui oggi per parlare dei 10 migliori tips and tricks di Apple Watch. Quindi 10 trucchetti che magari potreste non conoscere o che potreste conoscere. Nel caso in cui conosceste appunto qualcuno di questi, fatemi sapere nei commenti quale conoscevate e quale no. E se ne avete di nuovi, fatemi sapere sempre nei commenti questi nuovi trucchi che io non ho ancora detto, in modo tale che magari in un prossimo video potrete trattarli. Se vedo che questo video vi piace, nel caso in cui vi piaccia, mettete mi piace, iscrivetevi e rimanete aggiornati con tutti i miei video. Il primo trucco riguarda il sollevamento dell'Apple Watch e l'accensione dello schermo. Per fare in modo che questa cosa avvenga, quindi sollevare il polso e non vedere l'Apple Watch che si accende, quindi vedere lo schermo nero e intervenire manualmente per accendere lo schermo, quindi toccando sullo schermo stesso oppure cliccando sulla Digital Crown, bisognerà andare nell'applicazione di Apple Watch, cliccare su Generali, mi sembra, andare su Generali e Attiva Schermo. Qui ci sarà una spunta dove vi chiederà appunto di attivare l'alzata del polso per accendere lo schermo, che di default è attivata, quindi è verde, voi dovete disattivarla così da poter gestire l'Apple Watch in modo totalmente manuale. Io personalmente lo tengo acceso perché preferisco guardare l'ora in modo tale che lui stesso, l'Apple Watch, mi faccia capire che ora è quando si accorge che io guardo il polso, anche perché funziona molto bene anche se io ho Apple Watch SE, quindi teoricamente la funzione dovrebbe essere leggermente meno immediata rispetto ai modelli più buoni, quindi al Serie 6 ma anche al Serie 5 perché loro hanno lo schermo sempre attivo che si può anche quello disattivare, però volendo quello essendo già acceso non dà la sensazione di spento acceso, capito? Non c'è quel millisecondo che magari uno non sa più cosa fare perché guarda lo schermo ed è tutto nero e non ha senso. È possibile anche fare uno screenshot sul nostro Apple Watch. Serve? Non serve? Dipende dalle occasioni. Se si è distanti dal telefono e non si può fare uno screenshot dal telefono, magari per un messaggio importante che è arrivato, che dovete salvarvi in qualche modo nelle fotografie, o per una foto generica, o perché avete un evento particolare sull'Apple Watch che volete ricordare, che ne so, un bug particolare che magari non vi capiterà mai più, e il modo per farlo è fare uno screenshot sul vostro Apple Watch. Il concetto è bene o male simile a quello dell'iPhone. Per fare uno screenshot sull'iPhone basta cliccare il tasto di blocco e il tasto del volume più basso. Per fare invece lo screenshot sull'Apple Watch, il concetto come dicevo è praticamente identico, basterà cliccare la Digital Crown e il tasto che c'è fisico sotto. Quindi ci sono due tastini nell'Apple Watch, bisognerà cliccarli contemporaneamente. In questo modo si farà lo screen e la foto appena fatta verrà salvata all'interno della galleria dell'iPhone, direttamente sul vostro dispositivo, sullo smartphone. Molto comoda poi per essere condiviso. Ovviamente il formato della fotografia e quindi dello screenshot è un quadrato, perciò sappiate che non avete il formato bellino, avrete comunque due strisce nere sopra, ma la foto stessa è quadrata, giustamente, perché l'Apple Watch è quadrata. È possibile anche sbloccare il Mac con l'Apple Watch senza dover inserire la password. Io personalmente questa cosa l'ho fatta già da molto tempo perché mi torna molto molto utile e funziona molto molto bene. Unica pecca, che non è una pecca perché comunque è una questione di sicurezza, quando si accende il Mac per la prima volta è la password, bisogna metterla per forza, ma questo funziona anche per quanto riguarda l'impronta digitale. Per attivare il Touch ID sul Mac bisogna comunque sempre mettere la password prima all'inizio dell'accensione, ma la stessa cosa funziona anche con l'iPhone, volendo vedere, perché ogni volta che si accende l'iPhone ti chiede di mettere prima il PIN della SIM, poi la password del telefono e dalla volta successiva si potrà sbloccare con il Face ID. Stessa cosa per il Mac, stessa cosa per quanto riguarda sia il Mac col Touch ID, sia il Mac con l'Apple Watch. Per attivare questa funzionalità, quindi lo sblocco del Mac con l'Apple Watch, sarà fondamentale avere un Mac, ovviamente, e fare in modo che il dispositivo, il computer, e l'Apple Watch siano entrambi configurati con lo stesso account di iCloud. Una volta assicurati che questa cosa sia effettivamente così, bisogna andare in Preferenze di sistema del Mac, chiaramente, Sicurezza e privacy, e fare clic sulla scheda di Generali. In questo modo poi si potrà cliccare per attivare l'abbinamento con l'Apple Watch e fare in modo che venga sbloccato tramite Apple Watch. Questa cosa funziona ovviamente se si è in prossimità del computer, quindi immagino sempre sulla stessa rete Wi-Fi o con gli stessi dati. Quindi sappiate che se siete in pubblico probabilmente questa cosa non funzionerà. Non l'ho mai testata, ma penso che funzioni in questo modo, sono abbastanza sicuro che funzioni in questo modo, oppure funziona anche nel Bluetooth. Ma comunque in ogni caso è una connessione tra il Mac e l'iPhone, quindi l'Apple Watch ci deve essere in qualche modo. Perciò sappiate che non potete farlo così a caso. Una cosa che mi torna molto utile, almeno personalmente la trovo molto utile, anche perché la utilizzo per fare i video, e l'ho anche accennata in dei video precedenti nei quali trattavo di Apple Watch, che vi lascio qui in alto a destra se volete andare a recuperarveli, che sono Apple Watch un mese dopo, quindi le mie impressioni un mese dopo aver comprato questo Apple Watch, e Apple Watch sei mesi dopo, se aveva ancora senso dopo sei mesi, che sono ovviamente le impressioni che avevo dopo sei mesi di utilizzo di questo Apple Watch. Non vi spoilerò nulla, se volete andarvelo a vedere, il video, i video, ve li lascio qui in alto a destra. Comunque per quanto riguarda questo trucco, dicevo che è molto utile perché si può utilizzare, soprattutto per chi fa dei video, ma anche per fare delle foto magari in posizioni un po' strane, un po' scomode, semplicemente mettendo l'iPhone posizionato dove si vuole, come si vuole, con l'inquadratura anche un po' sbilenca, se si può dire così, attivare la fotocamera e andare sulla funzionalità che si vuole, quindi video, foto, slow motion o quello che si vuole, attivare l'applicazione della fotocamera sul proprio dispositivo smartwatch, quindi sull'Apple Watch, e in questo caso cliccare, una volta che si è posizionato l'iPhone nella posizione preferita, così da far scattare la foto o il video, far partire il video, la registrazione del video, a distanza senza dover toccare manualmente l'iPhone. È già integrata all'interno dell'Apple Watch, quindi non dovete anche installare nulla, funziona in automatico, immediata, facilissima e consigliatissima se fate video o foto. Sapevate che si può utilizzare Apple Pay anche da Apple Watch? Il modo per farlo è semplicissimo, bisogna innanzitutto avere una carta abilitata ad Apple Pay, io in questo caso utilizzo Revolut che è la mia carta preferita per Apple Pay, anche perché è l'unica che posso usare, perché quella della banca non funziona con Apple Pay. Ho fatto un video tra l'altro anche di Revolut, che vi lascio qui in alto a destra se volete andarvelo a vedere, nel caso in cui siete interessati ad avere una carta digitale per attivare Apple Pay. Per fare sì che questa cosa avvenga con il vostro Apple Watch non è troppo complicato, bisogna fare esattamente gli stessi passaggi che bisogna fare per attivarlo su iPhone. Basta andare sul wallet, aggiungere la carta e in questo modo la carta si troverà sia sull'iPhone che sull'Apple Watch. Per attivarla dall'iPhone bisogna fare doppio clic sul tasto di accensione e spegnimento, così comparirà la carta, bisognerà passarlo ovviamente sul lettore di carta e si effettuerà il pagamento. Per farlo invece da Apple Watch il concetto è praticamente identico. Abbiamo ricordato i due tasti Digital Crown e il tasto fisico. Il tasto fisico basterà premerlo due volte. Premendolo due volte comparirà la carta e basterà passarla sul lettore di carte, così da fare il pagamento esattamente come con lo smartphone. Facilissimo e comodissimo. Se perdete il vostro iPhone, spero per voi in casa, e non riuscite più a trovarlo appunto, ma sapete che comunque intorno nella zona in cui siete è presente, Apple Watch vi viene in soccorso perché vi basterà tirare su la tendina del control center e cercare l'icona di uno smartphone con delle ondine di fianco. Cliccando su quell'icona l'iPhone suonerà in modo molto invasivo, così che possiate riconoscerlo e ascoltarlo, sentirlo, anche da una distanza abbastanza lontana, perché comunque magari uno ha una casa abbastanza grande, quindi deve in qualche modo sentire il rumore dell'iPhone perso. Questa cosa si può ovviare con, stando attenti a non perdere l'iPhone ovviamente, oppure facendosi chiamare, ma facendosi chiamare innanzitutto devi parlare con altre persone e dire per favore aiutami a ritrovare il mio telefono, è già fastidio. Ma poi, in ogni caso, anche se doveste magari farvi chiamare, potreste avere l'iPhone in silenzioso. Io tengo sempre il telefono in silenzioso, quindi se non utilizzassi questa funzionalità sul mio smartwatch, probabilmente l'iPhone non lo troverai mai, quindi rimarrebbe sempre lì perso, magari nell'angolo del cuscino, nascosto sotto al tavolo, perso chissà dove, e invece con l'Apple Watch io riesco a trovarlo immediatamente. È possibile rispondere direttamente dal proprio polso. Ovviamente la connessione tra Apple Watch e iPhone deve esserci per forza. Non è fondamentale utilizzare delle cuffie, nonostante sia fortemente raccomandato dal sottoscritto e penso da chiunque altro, perché la qualità della chiamata aumenta incredibilmente. Ma devo essere sincero, la qualità degli speaker dell'Apple Watch, anche se magari consumano un pochino di più rispetto a quello che magari sarebbe la quantità della batteria se non si utilizzassero gli speaker, quindi io vi sconsiglio ulteriormente di utilizzare l'Apple Watch per fare chiamate, però nei momenti di urgenza, di panico, di, non lo so, qualche emergenza, qualche cosa, oppure magari dovete semplicemente rispondere a una chiamata per dire due o tre sciocchezze, potete farlo tranquillamente. Se avete indosso le AirPods, comunque, chiaramente, se rispondete alla chiamata sul vostro Apple Watch, la chiamata verrà riprodotta sulle vostre cuffie, quindi comodissimo l'ecosistema Apple, è perfetto, a me piace veramente tantissimo. Ovviamente per quanto riguarda le chiamate bisogna fare una distinzione, perché si può rispondere alla chiamata su Apple Watch soltanto se si è in prossimità dell'iPhone, se si ha il modello GPS. Se invece si ha il modello LTE, quindi con i dati, è possibile rispondere alle chiamate anche fuori casa, senza avere il proprio iPhone a portata di mano. Ma io personalmente così non lo utilizzerai mai, quindi vi consiglio di comprare il GPS, a meno che non abbiate delle esigenze particolari, come appunto lasciare il vostro iPhone da tutt'altra parte mentre andate in giro magari con il vostro telefono, per esempio a fare una corsa. Per dire, se magari siete in giro a fare una corsa e non volete portarvi il telefono, potete portarvi l'Apple Watch, che però, se è GPS, siete fuori dal mondo. Se invece è LTE, chiaramente potete rispondere alle chiamate se qualcuno dovesse chiamarvi. Parlando appunto di corsa e quindi di sport, mi collego anche al fatto che magari qualcuno potrebbe fare delle nuotate. Si tuffa in acqua con il proprio Apple Watch, che è impermeabile, e quindi sopporta l'acqua. Però, magari uno è un po' scettico, ha paura, preferisce non rischiare, Apple viene in soccorso anche per questo dubbio, perché vi basterà tornare nella sezione che vi dicevo prima, quindi nel centro di controllo tirando su la tendina dal basso, e una volta arrivati lì basterà scendere in basso, più in basso possibile mi sembra, luogo nel quale è presente un'icona con su una goccia dell'acqua. Cliccando con la goccia dell'acqua e girando la Digital Crown per attivare appunto la funzionalità, in modo tale che non sia stata una cosa casuale, partirà un suono un po' strano, che farà in modo di pulire l'Apple Watch dalle gocce d'acqua che saranno magari incastrate all'interno dello speaker, così da evitare dei malfunzionamenti o dei pericoli o delle rotture generiche dell'Apple Watch, così da magari costringervi ad andare in assistenza, portarlo, una rottura di balle. Quindi se è possibile evitarlo, fatelo, cioè dura veramente due secondi, non ci vuole nulla. Consigliatissimo se dovete utilizzarlo sott'acqua. Una volta collegate le Airpods al vostro iPhone e l'Apple Watch al vostro iPhone, quindi accesi tutti gli dispositivi, se decidete di ascoltare un po' di musica da Apple Music, da Spotify o da qualsiasi altro riproduttore, YouTube stesso va benissimo, ma qualsiasi riproduttore di video generico, quindi musica, video, podcast, qualsiasi cosa, se vi accorgete che il volume è troppo basso o troppo alto e l'iPhone è tanto lontano da voi, magari state lì, riposate, a dormire un pochino sul letto e non volete alzarvi a prendere l'iPhone. Potete semplicemente tirare sul vostro polso, girare la rotellina da Digital Crown in alto se volete alzare il volume, in basso se volete abbassare il volume. Il movimento, quindi la rotazione, dovrà essere un po' accentuata all'inizio perché potrebbe essere una cosa casuale che magari vi passa il dito e volete girare la rotellina, quindi Apple per confermare questa modifica del volume ve lo fa fare leggermente di più all'inizio. L'ultimo trucco riguarda i quadranti. Volete cambiare il quadrante ma quelli di Apple nativi non vi piacciono, nonostante abbiano enorme selezione di quadranti che io vi consiglio di andarvi a spulciare uno per uno perché sono veramente molto carini. Nell'applicazione di Apple Watch, per chi non lo sapesse, comunque si può andare a selezionare i quadranti nella galleria quadranti nella scheda seconda. Nel caso però in cui questi quadranti non dovessero piacervi, ho fatto un video a riguardo tra l'altro per le applicazioni migliori per Apple Watch, ne ho fatti due ad essere sincero, quindi vi rilascio qui in alto a destra o in descrizione o in entrambe le parti. In uno dei due, nel primo, tratto anche delle applicazioni per i quadranti che hanno dei quadranti molto bellini che io vi consiglio vivamente di provare. Sono tre applicazioni gratuite totalmente ma comunque hanno anche la versione premium in alcuni casi ma non è fondamentale averla. E queste tre applicazioni permettono di avere dei quadranti molto interessanti. Però mettiamo che qualsiasi quadrante non vi interessi perché non volete avere un quadrante, perché magari vi dà un fastidio, oppure perché semplicemente non vi piacciono i quadranti che hanno a disposizione ma avete una foto che vi piace veramente tanto, Apple dà la possibilità di utilizzare le proprie foto nel rullino fotografico appunto dell'iPhone per impostarle come sfondo del proprio quadrante. È possibile utilizzare una foto sola oppure un album. Per fare questo bisognerà andare nella galleria dei quadranti e scendere un pochino, andare nella sezione chiamata foto, semplicemente mi sembra, e cliccare sulla foto. In basso poi ci sarà, come vi dicevo, la possibilità di scegliere, oltre ai vari filtri, a tutte le modifiche che si possono fare in qualsiasi tipo di quadrante, si potrà andare a scegliere quale fotografia mettere o quale album andare a mettere, quindi quale selezione di foto. Voi ovviamente andrete a selezionare la foto che vi interessa e una volta scelta basterà impostarla e cliccare su aggiungi. Ci sarà un'animazione incredibile sul vostro iPhone, ma poi vi basterà sollevare l'Apple Watch e vedere che la foto che avete scelto si trova ora sul vostro polso. E niente, questi erano i 10 trucchi per Apple Watch che io vi consiglio di provare perché sono quelli che io personalmente ho trovato molto utili. Ce ne sono tantissimi altri che potrei consigliarvi, ma questi sono i miei preferiti, quelli che utilizzo di più. Quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi, di commentare, condividete questo video con chiunque abbiate in amicizia, o comunque che magari il video vi è fatto schifo condividetelo con qualcuno che vi sta antipatico. Commentate appunto dicendomi quali di questi trucchi vi è piaciuto, quali non vi è piaciuto, quali avete utilizzato, quali utilizzerete e quali conoscevate già e quali non conoscevate ancora. Noi ci vediamo quindi in un prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima! Ciao a tutti!